Kiss Kiss Bang Bang è un film del 2005 diretto da Shane Black. Con questo film Shane Black fa il suo esordio alla regia e basa la storia di questo suo esordio sul romanzo Cadavere in trasferta di Brett Halliday. Siamo a Los Angeles, la città dei sogni. Tutti vanno a Los Angeles ma nessuno è di Los Angeles in realtà, soprattutto le giovani attrici. Tra questi tanti aspiranti interpreti e star dello show business abbiamo Harry, interpretato dall'allora pre-Iron Man Robert Downey Jr. Harry è un ladruncolo, un ladruncolo che è stato già pizzicato diverse volte a rubare qua e là, in realtà magari addirittura in un negozio di giocattoli o quasi, della polizia e che si è ritrovato improvvisamente in qualche modo in un... a divieni di circostanze tragicomiche come un aspirante attore, un aspirante attore di Los Angeles. Qui, molto presto, Harry si ritroverà affiancato a un detective privato, ovvero sia Perry Von Schraich, Gay Perry, interpretato da Val Kilmer. Questo perché? Per poter in qualche modo provare a sviluppare determinate conoscenze per un ruolo che, imminentemente, potrebbe capitarli. Harry allora si ritrova insieme a Gay Perry. A Gay Perry improvvisamente si ritrovano immersi, letteralmente, in un problema, ovvero sia, a un certo punto, durante un pedinamento, nel quale faranno, si ritroveranno molto presto con un cadavere di una ragazza uccisa e questo li porterà a poco a poco, sempre di più dopo essere stati evidentemente avvistati da quelli che probabilmente sono gli omicidi, appunto, della ragazza, in un turbinio di circostanze, in tratti assurde, a tratte drammatiche che, per certi versi, sono un po' rappresentative di quello che è questo film, ovvero un reinventare, in qualche modo, un reimmaginare, in qualche modo uno schernire al tempo stesso e elogiare il genere noir, la detective story, di tante produzioni del passato. Ad affiancare i due ci sarà il terzo personaggio principale di questa storia, ovvero sia Harmony, Michelle Monaghan, che io ricordo per tanti ruoli, al di là del suo più recente, se vogliamo, contributo alla saga di Mission Impossible, ad esempio True Detective 1, perché no, anche Il Padre della Sposa, o altre produzioni in cui posso vista, ad esempio in Source Code, questa, Harmony, è una aspirante attrice che, in realtà, fa parte del passato di Harry, anche se lui ha difficoltà all'inizio, quando cerca di approcciarla, riconoscerla. Infatti, i due sono amici di vecchia data e, anzi, lei è l'amore mai veramente corrisposto e mai dimenticato, in realtà, del buon Harry. È un film, questo, divertentissimo, con la sua oretta e mezza, poco più, vola via che è una bellezza e riesce, anche per uno come me, che è poco avvezza, in realtà, al genere Noire, al tempo stesso, al genere Detectivity Story, riesce a far percepire come ci sia stato un elevato studio per poter immaginare in maniera efficace quello che è, appunto, il genere hardboil, delle storie, quelle che magari potevamo leggere nei romanzi Detectivity Story, appunto, mi fassi pensare, ad esempio, a Le Noire, che ha avuto anche un'ottima trasposizione, secondo me, oppure i tanti film e serial che ci possono essere stati sul tema del Detectivity privato e quant'altro. I personaggi sono divertentissimi. Abbiamo un Robert Downey Jr., che qua è in stato di grazia, secondo me, che fa un improvvisato Detective, che cerca in tutti i modi, in realtà, di stangarla, magari di portarsi a letto l'una o l'altra, in realtà, ma che gira, che ti rigira, in realtà, non fa altro che raccogliere quello che ha seminato, per certi versi, oppure, ancora di più, gliene capitano di tutti i colori. Addirittura si ritrova mutilato a un certo punto, si ritrova cadavere a destra manca ed è l'anti-detective per antonomasia, in realtà, perché non fa altro che mettersi nei guai ancora di più e, al tempo stesso, in qualche modo, non riesce veramente a ottenere quello che vuole, se vogliamo, ovvero sia la ragazza dei suoi sogni. Al tempo stesso abbiamo poi il personaggio di Val Kilmer, geniale, questo detective primato, Gabe Harry, appunto, che riesce a essere al tempo stesso comico, ma anche estremamente serio, se vogliamo, è l'elemento più stilistico, tradizionale di tutta quanta questa storia e che, in realtà, comunque, riesce sempre a equilibrare benissimo il suo taglio noir con quello un pochettino più sentimentale, se vogliamo, con quello action e con quello della commedia generale. Abbiamo poi il personaggio di Harmony, questa ragazza, che è la Michelle Monaghan, appunto, che, in qualche modo, cerca di venire fuori da un mondo pieno di altre potenziali attrici, aspiranti attrici o quant'altro, che le possono rubare il posto, in qualche modo ha avuto un passo d'attrice, ma non è stata quello che, in realtà, sperava fosse. Lei, soprattutto, sarà molto importante per comprendere, a un certo punto ancora di più, tutti quei problemi legati a un determinato contesto di questo show system, in realtà, di una piccola realtà, che ha visto, in realtà, la sorella di lei coinvolta a un certo punto e che ne ha decretato la fine. Entrambe le sorelle, purtroppo, vengono da un passato di violenze ed abusi e questo, in qualche modo, forse, si riflette anche un pochettino su quello che è lo sviluppo della storia del personaggio, del passato del personaggio, del suo presente, del suo approccio alla vita e agli uomini, in realtà, ma, in generale, sarà molto rilevante, a un certo punto, per la comprensione di cosa davvero sta succedendo. In questa, di fatto, indagine, un poco a poco, che avremo modo di vedere nel corso di questo film, secondo me è assolutamente brillante, con un ritmo meraviglioso, un ottimo montaggio, degli ottimi momenti cromici e al tempo stesso anche delle scene d'azione o similazione che, secondo me, fanno questo film un ottimo, ottimo film di intrattenimento e quindi, se vi capita, recuperatevi, kiss kiss bang bang, ve lo consiglio.